La carovana della prevenzione è arrivata a Olbia in piazza Terranova Pausania. La prima tapasarda dell'evento targato Comen Italia in collaborazione con il Mater Olbia Hospital e i suoi specialisti ha raccolto la partecipazione di oltre 50 donne che si sono sottoposte a screening senologico e ginecologico gratuito. L'iniziativa dedicata alla prevenzione delle patologie oncologiche femminili, alla quarta edizione in città, si inserisce nell'ambito di Mater and Comen insieme per il Nord Sardegna e coinvolge le donne che non rientrano nei programmi di screening regionali. Portiamo la prevenzione appunto in quel luogo dove arriva con maggiore difficoltà. Ricordiamo che ogni anno ci sono 56.000 nuovi casi di tumore del seno, ma ricordiamo a tutti che con la diagnosi precoce c'è il 90% di guarigione e di cure meno invasive. All'interno dei due track di Comen sono state programmate visite ginecologiche ed ecografie transvaginali, mammografie per le donne fra i 40 e i 49 anni e over 70 ed ecografie senologiche per chi ha meno di 40 anni. Sotto i 50 anni di età sta aumentando negli ultimi anni l'incidenza del tumore in generale. È primo fra tutti, non solo nelle donne ma nella popolazione totale, il tumore al seno con una incidenza all'incirca di 37,7 casi ogni 100.000 abitanti in un anno. Questo è sconvolgente se parliamo di tumore della mammella sotto i 50 anni. Abbiamo fatto il sold out su cui ho appena aperto il link di prenotazione grazie al Comune, quindi ci fa molto piacere che Olbia ha risposto in modo molto positivo. Dopo la carovana della prevenzione, il prossimo 29 giugno Mater e Comen saranno insieme ancora una volta a Olbia per la passeggiata in Rosa, che servirà per sensibilizzare la popolazione e raccogliere fondi per la lotta ai tumori al seno.